Il CEO di Neroverdi per Davide, stiamo trattando con Giallorossi. Juve e Inter l'ombelico del mercato dei trasferimenti è Sassuolo. Fai un tour delle porte della città. Presso il MAPEI Football Center. Per capire che per le grandi imprese puoi anche essere piccolo. Purché siano belli e equipaggiati con una buona programmazione. Giovanni Carnevali. Direttore delegato e generale amministrativo. Ha un telefono bollente. Tutti per chiedergli gioielli neroverdi con prezzi che non forniscono sconti. Nel frattempo prevede. Buoni rinforzi senza i quali non ci saranno vendite eccellenti. Ad eccezione di Davide Frattesi che ha già pronto la valigia. In il Messagga Massimo Boccucci ha fatto un'intervista con l'annuncio di Sassuolo parliamo e valutiamo. Ma siamo ancora lungi dall'essere chiusi e penso che ci vorrà del tempo anche se vogliamo fare tutto. Prima del ritiro. Ci raduneremo il 5 luglio per le visite mediche al Center MAPEI Sport da Olgiate Olona e a 100 grave atto. Quindi lasciando la LL per l'Erasim Vipiteno fino al 27. Siamo interessati a avere una foto già delineata per queste date. Stiamo parlando con Roma, Juve e Inter. Sento Milano su Milano. Specialmente dopo la vendita di Tonali. Ma almeno finora non ci hanno chiesto. Mentre con gli altri i discorsi sono in piedi e abbiamo incontrato. Roma, tuttavia, ha beneficiato di Frattese dai diritti nella rivendita e dalla volontà del ragazzo. La società giallorossi ha il 30% ma questo non ci condiziona. Anche perché è bene sottolineare che non siamo obbligati ad arenon abbiamo bisogno di farlo. Frattesi non ha espresso preferenze particolari. Se non per rimanere nel campionato italiano.